Sono nel limbo da mesi. Da un lato la loro azienda per la quale hanno lavorato finora la Eurotech, sul cui eventuale fallimento oggi dovrebbe pronunciarsi il tribunale, dall'altro l'impossibilità di essere ricollocati in una nuova azienda qualora la vicenda giudiziaria non si concluda. E così i 30 lavoratori Eurotech questa mattina hanno escenato un sit-in pacifico davanti Palazzo di Giustizia per chiedere ai giudici di accelerare i tempi. L'udienza, dopo ben due rinvii, dovrebbe servire a ratificare l'esito del voto sul piano di rientro che è stato negativo a causa del mancato raggiungimento delle maggioranze necessarie. A questo punto il concordato potrebbe essere dichiarato inammissibile. L'ipotesi del fallimento a quel punto sarebbe quella più concreta. Se il concordato preventivo non passasse non sarà comunque automatica la dichiarazione di fallimento in base alla disciplina in materia. Prima di tutto dovrebbe esserci una richiesta in tal senso formalizzata dalle parti interessate alla procedura. Senza fallimento però i lavoratori che da mesi hanno esaurito le commesse e si alternano tra turni di lavoro e cassa integrazione non possono essere licenziati. Noi siamo qui stamattina per lanciare il messaggio che noi non vogliamo più aspettare e vogliamo essere licenziati dal momento in cui poi subendra il curatore fallimentare al nostro lavoro. Non chiediamo altro che mettere mano ai licenziamenti perché fra le altre cose ci sono già due aziende che si sono insediate e che ci aspettano, aspettano le nostre maestranze. Quindi speriamo che innanzitutto oggi si faccia l'udienza e quindi poi si vada al fallimento, si decretta il fallimento e per cui poi vediamo che succederà. Che mesi sono stati questi? Ma diciamo che alla fine, diciamo da marzo, dal momento in cui si è aperta la cassa integrazione per covid, diciamo che a Singhiozzo abbiamo lavorato alternandoci ogni 15 giorni per cui alla fine diciamo abbiamo tirato il, come si suol dire, il carretto a Singhiozzo. Mesi duri quelli vissuti da questi operai e dalle loro famiglie costretti a sopravvivere con la cassa integrazione. Io è da marzo che sono fermo, non ho fatto a Singhiozzo come i ragazzi, perciò è meglio che si sbrigano a fare questi licenziamenti. Anche perché a casa arrivano le bollette, ci sono i mutui da pagare e si soffre. Ce n'ho una da pagare subito 521, ecco, 521 euro da pagare, più altri 60 euro qua. Prendi cassa integrazione? 800 euro, cioè non si può andare avanti così, ma il salvadanario già si è rotto, quelli che avevamo conservati non ce li abbiamo più. Negli scorsi mesi, prima del lockdown, è stato imbastito un accordo per il passaggio della gran parte dei dipendenti alla Siracusana ICOS del gruppo IREM. L'azienda è stata individuata per subentrare in diverse commesse che erano state affidate alla stessa Eurotec, anche in questo caso sarà fondamentale arrivare a una pronuncia formale sulla procedura di concordato per mettere fine al paradosso che questi lavoratori stanno vivendo. Il paradosso è questo di qua, che noi il lavoro c'è, ci sarebbe per noi il lavoro, però non possiamo andarci perché siamo bloccati. Che da una parte c'è una ditta che ancora, anche se è fallita, diciamo tra virgolette valita, ci tiene sotto contratto e non ci possiamo svincolare fin dal momento in cui qua, dal tribunale, danno origine a questa cosa di qua, cioè che ci possono liberare. Il vostro appello oggi qual è? Quello di sbrigarsi e liberarci. Quando possiamo iniziamo ad andare a lavorare dove dobbiamo andare a lavorare. Grazie.